Uno storico gemellaggio che si rinnova ogni stagione nel segno dello sport. Domenica alle 14 l'Avellino sbarcherà oltre lo stretto per sfidare il Messina nella sesta giornata del campionato di Lega Pro e lo farà anche questa volta nel segno della socialità. Sulla pagina Facebook il Messina siamo noi che conta quasi 15.000 followers i sostenitori siciliani hanno lanciato un appello alle istituzioni. Non fate alcuna restrizione e date tutti gli 800 abbonamenti a disposizione del settore ospiti agli amici Irpini. Domenica, scrivono, dovrà essere una bella giornata di sport sia in campo che sugli spalti. Insomma una chiamata importante nonostante pare che i rapporti tra gli Avellinesi ed una sparuta frangia del tifo messinese si sia leggermente incrinata la scorsa estate. Parte del tifo peloritano simpatizzerebbe infatti per il Napoli e non avrebbe gradito le tensioni degli Irpini con i campioni d'Italia. Ovviamente si tratterebbe di uno screzio irrilevante se paragonato alla storica amicizia che lega i due gruppi ma pare che per la prima volta dopo tanti anni prima della partita non ci sarà la classica grigliata domenicale. Domani intanto si aprirà la prevendita. Al seguito dei lupi potrebbero esserci circa 300 tifosi a sobbarcarsi un viaggio lungo ed anche dispendioso. Un'ennesima dimostrazione d'amore, di sostegno e di abnegazione per una piazza che si farà sentire ovunque, come sempre, accaduto in ogni stadio d'Italia.